secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie usato la tua madre gli ho fatto un bocchino non si può dire eh? non hai capito? come devi portare eh? oh si dite la sponsor dai io ci vediamo dopo ragazzi andiamo dalla folla andiamo dalla folla la pistola un saluto per chi? stondi 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 oh oh stondi stondi sono per no sono per no 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 la rivediamo è l'ora i sementi sono io si chiama il sole è la sua fidanzata? no però presenti com'è? com'è la vita? cioè tu hai fatto i ritrovati oggi ho fatto una storia ascolta signor Baini parli bene che? Matteo Baini signor Matteo Baini Matteo Baini Matteo Baini? ma finì? sì ho sempre pensato di chiamarsi Mattia Matteo invece Matteo ma tutto bene qualcuno di voi qui è così potente dalle vitrinche io tutto bene azzeccata ragazze 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 posso decidere della mia donna in quanto della mia donna sei possessivo quindi sono che il padrone di chiedi sto nella mia vita ok è libera di fare ciò che vuoi lei visto il numero il club e deve aggiungere un milione entro due mesi voleva dire ma comunque dipende mai questo passiamo alle votazioni caisha come ti chiami sono qua la quarta volta ma tu sei un quoto ti muovi come un quoto iniziamo pure con la prima votazione per me sì per lei sì passi il turno successivo chat sondaggio gentilmente perché anche il voto della chat contribuirà a vedere stiui per me no non mi si io rispettami cos'è madilde cos'è la cosa che ti piace più del fube il naso posso dirlo posso dirlo complimenti mi aspettavo questa risposta complimenti non ci credo una cosa però afferra le due cose dai lati così no 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 non l'intendevo non c'è ma quanto hanno fumato qua dentro la camera è pannata la camera è pannata hanno fumato un po' troppo ha fumato letteralmente no lei credo non sia no 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 perché io davanti no 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 A presto. Porta, ti calmi. Che stai facendo? Allora, tirati lì. Scusaci, scusaci Polina, ho fatto qualche errore, Giulia? No, no. Dimmi quando sgravo, eh, ma lei dove vive? In senso, chiedilo a lei. Ah, hai ragione. Polina, dove vivi? Ah, vivo, per il momento... Guardiamole, guardiamole, guardiamole. Cosa è successo? Raga, niente, ho scoperto praticamente, mi ha tradito. Cornuta! Cornuta! E la parola è... Aspetta, rifammelo. No, no. Va bene, va bene, l'ultimo che hai detto una parola. L'ultimo che hai detto, vai. E la parola è... Matisse. Bravo! 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 Che inizio! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, c'è una parola! Sì, non ci vuoi, adè. Mamma, spero tu non sia in live. No. Mamma, giuro. Giuro. Ok. Quando, vabbè, quando torni a casa. Te richiamo a far un po' amore. Non mi fai fuori a dormire, però. No, rimani a svegliare solo per me se mi ami veramente. Mamma, tu non mi ami, mamma. Eh, lo so, però tu mi devi amare. Dai, scemo. Mamma, non vedo l'ora di toccarti col culone. E farti ridere questi torde. Maggio. Sei tutto eccitato, eh. Mi sto agitando. No. Ti richiamo dopo, amore. Ti richiamo dopo, amore. Ti richiamo dopo, amore. No. No. Ti richiamo dopo. Ti richiamo dopo. Ma sì, infatti è andata bene. Eh, è andata bene. Vai. Cioè, fern. Poi, c'è un po' di guadrino. C'è un po' di guadrino. Vai. Ho un po' di guadrino. No, scusate. Ho un po' di giallo. Mi giuro. Io giocavo a un win. No, a quel sport. Vai, vai, il bowling. Perl. Certo No 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 Ma 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 Dicke ha passato e le si chiama la ex No Ma Quella ptana l'ercia Alexi non è Hergia Oh Una tipa che mi fa le corna Ma ho capito ma l'ercia è sporca Ma Ma Gigi Ho scusato Ma non ancora eh La metto sotto No Alexi Faccio retro marcio No L'impegno Si 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 Ti ha visto Ti ho visto cosa ha fatto già visto di nuovo programma di merda ci siamo vai un culo vai siamo alla chi la canto solo io grazie silenzio grazie chat corincia c'è scritto